In 2009, in ottobre 2009, un rapporto che è pubblicato da parte del FATF con una lista sumamente larga di deficiência di tanto leggi come le implementazioni e anche di falta di incisioni e processi per garantire il nostro paese di lavamento di placi e anche di finanziamento di terorismo, noi realizziamo questa situazione che non permette di perdurare per il paese Aruba, non solo con una carica e responsabilità della comunità internazionale per percorrere, per Aruba in tutto il caso, noi voglio utilizzare il meccanismo ma anche, però bene già sai che ha un effetto negativo per il paese nel momento che il nostro paese è utilizzato e ha repercussione anche nella comunità locale e ha repercussione anche nella buona immagine internazionale come un paese nel momento che un istituto di FATF deve essere non compliant con una regla fondamentale per garantire la integrità del processo finanziario del mondo nel momento che il nostro WAC è lista, non si è realizzato come una tarea l'Otta 1 sumamente grande e come la riparazione di TUR e questa cosa che è stata deficiente, lo ha richiesto un'applicazione di non unicamente una strategia, ma anche di un metodo di terorismo integral, coerente in cui tutti i stakeholder sanno partecipare. E per me cosa non conosco, ragazzi, giunto con la centrale banca, noi ha bisogno di un'expertizio di affo, che aiuta a noi a categorizzare la lista larga di che, come la FATF ha fatto in, arriva e regla nel nostro paese e il funzionamento dell'instituto, nella totalità di responsabilità con la carica come un paese. Nostra, noi vogliamo di un'experito di un consiglio che non si può nombrare, che non si può nombrare e che non si può nombrare e 20, 40, che ci sono più fissi, ci sono più urgenti e a base di una riccomanda che ci sono un'applicazione, ci sono un'applicazione, 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 che si è presentato a noi, Grazie a tutti. Grazie a tutti.